Probabilmente più che la politica in realtà potè l'alcol. Qualche milligrammo nel sangue di troppo ed ecco che un sabato sera di ombre stratificate si è trasformato in una rissaccia con bottiglie a volanti. Il fatto che sia una rissa tra ubriaconi oppure che si tratti di tifosi, di reazione di un marito tradito o di nostalgici delle risse politiche di un tempo poco cambia la sostanza. Di una rissa non controllata e non sedata per tempo si è trattato e come tale è stato un problema di ordine pubblico. Anche il precedente assessore alla sicurezza ha qualcosa da dire. Noi non chiediamo dimissioni ma chiediamo una presa di coscienza e finalmente iniziare a lavorare anche sul settore della sicurezza. Non si può lasciare una città abbandonata senza vigili per le strade e senza una idea di quello che è una collaborazione con le forze dell'ordine. Abbiamo assistito solo a caffè, sorrisi e proclami. Noi siamo qui costruttivi, propositivi. Abbiamo avuto un'esperienza in questi cinque anni di un grande lavoro fatto con i baristi, con i residenti del centro storico e con tutte le forze dell'ordine. Il patto civico un anno fa addirittura avevamo avuto un accordo con i baristi per una vigilanza privata. Fatti come quello di sabato sera non si sono mai ripetuti e non si devono mai più accadere in questa nostra Bassano. E chiediamo quindi all'amministrazione, al sindaco e all'assessore della sicurezza di battere un colpo, di dire se sono presenti. Non serve sminuire, dire che è stato un fatto isolato. È un campanello d'allarme, è un campanello d'allarme che va affrontato con il lavoro di ogni giorno e con serietà. Persino un gruppo non certo a fine a vernillo come Destra Brenta, che invece vede la vicenda più come scontro politico, non è tenero con l'amministrazione comunale in un comunicato. Come mai al nostro annuale torneo di calcetto troviamo ogni anno un presidio di forze dell'ordine e ad un evento organizzato dall'estrema sinistra nemmeno una pattuglia della polizia locale, si chiedono? A parte che abbia o meno organizzato l'evento, sulla polizia locale lecito chiedersi se lo sbandierato utilizzo di pattuglie sul territorio sia solo una chimera da campagna elettorale, soprattutto nelle notti alcoliche del sabato bassanese.